Si sposano il 28 agosto 1995. 27 anni di matrimonio in cui non sono mai mancati fiducia, complicità, dialogo. Il loro è un amore assoluto, ma anche una profonda alleanza, suggellata da qualcosa di ancora più grande, Gabriele. Esserci, io credo che questo sia molto importante, esserci. Io credo che quello sia famiglia. Esserci sempre, l'uno a fianco dell'altra, in una silenziosa promessa mantenuta per tutta la vita. Lei rappresenta la donna più importante che io abbia incontrato. Io ho detto tu sei la donna nella cui mano vorrei morire. dell'indici. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.